Bella a tutti ragazzi, qui è Domeyang e benvenuti in questo nuovo video dove parleremo del calciomercato Partiamo da Cesni che ormai è ufficiale, arriverà alla Juve l'anno prossimo dall'Arsenal Visto che la Roma non l'ha riscattato perché in effetti i 15 milioni che ha Ma potrebbero essere anche di più dato che la Juve voleva Cesni non li ha questi milioni La Juve lo prende per 15 milioni più 2 di bonus Certo però che Cesni per me è ancora presto per comprarlo perché Buffon ancora ci dovrà essere un altro anno Però un acquisto molto buono per il futuro Credo che a questo punto però si dovrà procedere per vendere Neto Se non si vuole svalutarlo ulteriormente dopo queste due stagioni passate in bianco nero Passate solo ad alzare coppe in cui solo nella Coppa Italia l'ha visto protagonista Penso che la Roma ora non necessariamente debba trovare un nuovo portiere Perché Alisson quando ha giocato in Europa League e in Coppa Italia ha giocato davvero molto bene E secondo me potrebbe quasi essere meglio di Cesni se giocherà con continuità Poi ci sono delle notizie però non sono ufficiali che Salah se ne va da Roma E va da Liverpool per circa 35-40 milioni di euro e manca l'accordo Sono un po' contrariato perché la Roma lascerà andare Salah per quella cifra Quando Dal Southampton, un giocatore che ora nemmeno ricordo il nome E' stato acquistato da Liverpool, un difensore centrale non conosciuto Non conosciutissimo perché solo magari i tifosi del Southampton Che qualche tifoso inglese sapeva della sua esistenza E' stato acquistato per 70 milioni E a questo punto mi sembra una cifra o esagerata quella del difensore Oppure a questo punto bisogna procedere per alzare veramente i costi Salah dovrebbe essere venduto a 100 milioni E quindi di conseguenza poi si arriverebbe anche a altri giocatori come Di Bala Messi o Ronaldo che sarebbero impossibili da acquistare Altre voci di mercato arrivano dal Milan In cui il Milan ha già comprato Musacchio Poi si dice che ci sia già il sì di che sì di conti Ma ho letto anche che cercherà di contentersi con la Juve che dà A proposito della Juve c'è anche lo zampino da parte della signora Bianconera Ad acquistare Douglas Costa da parte del Bayern Monaco Per me qui però la Juve ha sbagliato perché quando ha dato comando al Bayern Monaco Al posto di fissare un prezzo per il riscatto a 30 milioni Poteva benissimo fare uno scambio Coman per Douglas Costa Però così non è stato Speriamo che ce lo daranno a meno di 30 milioni anche se io non lo vedo possibile Però comunque potrebbe essere un ottimo colpo di mercato Da parte sempre della Juve ci sono interessi sia in Matuidito, Lissot Ma anche Zonzi si parlava a gennaio con l'Asinac per la difesa Però per ora sono tutte voci ma il calciomercato è ancora lucro Questo video finisce qui Mi raccomando iscrivetevi, mettete like Bella Grazie a tutti Grazie a tutti